Che c'è? Sai, stavo leggendo di quel giudice. La gente lo chiama Santo Blake. Si occupava di inchieste per i rifugiati. È una trovata pubblicitaria. Gli inaperrabili graffitisti I came by sono tornati a perseguitare i ricchi della città. Volevi combattere il sistema. C'è qualcuno che potrebbe voler l'accusare? Ero un giudice, quindi sì, un bel po' di persone. Che cosa abbiamo dimostrato finora? Di poter entrare nelle loro case ogni volta che vogliamo. Hai 23 anni e che risultati hai ottenuto? Devi lasciarmi vivere la mia vita! Se vuoi continuare a fare graffiti, io me ne tiro fuori. Tu da che parte stai, amico? Sono entrato in casa di quel giudice. No, non voglio ascoltarci. Non voglio saperne nulla! Perché dovrebbe avere una lettera indirizzata a Hector Blake? Non posso rinunciare a lottare! Chi ci faceva fuori dalla casa di Hector Blake? Hector nasconde qualcosa. Ho cercato di essere gentile. Ci ho provato davvero. Ma la rabbia... ha prevalso. Fu così liberatorio. Stimolante. Vuoi sapere che cosa è successo?